Ciao a tutti, io sono Andrea dell'Albero Azzurro, la storica trasmissione RAI che quest'anno compie 30 anni. Io sono corgnatese, sono canavesano e quindi volevo invitare tutti i bimbi corgnatesi e canavesani a seguire l'Albero Azzurro tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.20 su Raioyò. E poi volevo ricordarvi, se avete piacere, che tutte le sere alle 21.15 sul mio profilo Instagram, che è andrea-beltramo, leggo una fiaba della buonanotte. Quindi la sera, se avete voglia di stare in compagnia con me e con le fiaba della buonanotte, collegatevi, seguite la diretta sul mio profilo Instagram, ci leggiamo una fiaba, ci salutiamo, ci teniamo compagnia e ci auguriamo una buonanotte. Io da canavesano vi voglio davvero bene e vi dico che andrà tutto bene e non appena tutto questo sarà finito, quando ci incontreremo in giro per il nostro splendido canavese, ci abbracceremo. Ciao! Ciao! Ciao!